Un incontro assolutamente doveroso anche perché non ci avevamo parlato fino adesso e Giancarlo era venuto al CONI per il premio Berzot, quindi mi sembrava giusto fare il punto, ma con grandissima signorilità, ho visto anche le sue dichiarazioni, lo apprezzate perché ha parlato di rispetto, non può che essere così, grazie. La Lega presenterà un suo candidato Presidente? Non lo so, questo onestamento non lo so, non sta a me dirlo, anche perché voi sapete che io sono di passaggio, presumo e spero che prima si conclude la vicenda della governanza Lega e tanto più saranno chiari in questo senso.